La ripresa del settore edile a Prato c'è, ma in due anni sono più che raddoppiati gli infortuni gravi. Secondo i dati della Cassa Edile, nel periodo ottobre 2018-settembre 2019, gli incidenti denunciati erano 23, saliti a 57 negli stessi mesi del 2020-2021. A preoccupare ulteriormente la gravità, 12 con prognosi superiore alla settimana negli anni di riferimento pre-pandemia e 38 per il post-pandemia. Il rovescio della medaglia è che nei primi dieci mesi dell'anno le ore lavorate sono state 2 milioni, per 1.900 dipendenti di 438 imprese. I dati magari ci stanno preoccupando, sono in particolare per Prato, ma penso sia un po' per tutta l'Italia, gli infortuni. E siccome c'è questa ripresa, diciamo, abbastanza forte e manca la mano d'opera, quello che noi vogliamo mettere l'attenzione è appunto la riqualificazione del personale. Non solo formazione, lavorando in collaborazione con il Centro per l'Impiego per intercettare le richieste, ma anche un progetto per creare un sistema virtuoso per le imprese, questa volta in collaborazione con l'INAIR. Gli sgravi fiscali, anche giusti, a chi fa gli investimenti nella sicurezza, quindi a chi è regolare nel mondo della sicurezza. La CISL